Ciao, sono Olya Belamutova, ho 20 anni. Ciao, mi chiamo Kirill Dovgal, ho 19 anni. Sono Rita Kazak, ho 21 anni. Mi chiamo Andrei Kulbeda, ho 21 anni. Mi chiamo Vladlène Vergell, ho 21 anni. Sono Vanya Sakovic, ho 22 anni. Mi chiamo Nastia Krivasheva, ho 20 anni, frequentavo l'Università Statale Linguistica di Minsk. Mi chiamo Ivan Bacilo, ho 20 anni, ho studiato l'Università di Pedagogia. Mi chiamo Sergiuk Dubina, ho già 22 anni. Studiavo l'Università Linguistica di Minsk, ero al quarto anno, facoltà di inglese. Potevo essere allenatore di nuoto. Frequentavo l'Università Statale di Economia, facoltà di relazioni internazionali, specialista della comunicazione interculturale. Studiavo all'Università Linguistica. Studiavo all'Università di Pedagogia di Maxim Tank. Dovevo essere un insegnante di matematica e informatica. Frequentavo l'Università Statale Economica. Ero un attivista già dal secondo anno dell'Università, cioè probabilmente da 18 anni. Sono attualmente un membro del Consiglio della ZBS. Se ti stai chiedendo cosa sia la ZBS, allora rispondo. Si tratta di un sindacato nazionale degli studenti. È una sorta di associazione degli studenti provenienti da tutta la Bielorussia, ma anche dall'estero. Gli obiettivi della nostra attività sono principalmente tre. La divulgazione della lingua e della cultura bielorussa. La difesa dell'indipendenza della Bielorussia. Il secondo obiettivo è l'aumento della qualità dell'istruzione. Il terzo è la difesa dei diritti degli studenti. Ovviamente ZBS rappresenta anche la voce degli studenti bielorussi a livello internazionale. Sono stato espulso per la partecipazione alle proteste all'interno dell'Università. Sono stata espulsa a fine ottobre dopo le parole di Lukashenko che tutti gli studenti antipatici dovranno essere espulsi. Dopo questo, in poche settimane, ero costretta a lasciare Bielorussia e partire per Kiev a causa della minaccia di un procedimento penale nei miei confronti dopo il giovedì nero e dopo che ho scoperto che i miei amici sono stati perquisiti, interrogati, sono stati chiesti anche di me. A un certo punto il relatore dell'Università ha detto di avere informazioni sul fatto che sono l'organizzatrice delle proteste. Ha detto che alcuni servizi speciali hanno passato queste informazioni e ho capito che questo poteva essere un motivo per il procedimento penale. Sono stato costretto a lasciare il paese per timore del procedimento penale dopo che gli ufficiali della KGB hanno fatto irruzione in casa mia e mi hanno interrogato. Mi hanno chiesto dell'attivismo e in generale dei miei amici e quali, tra l'altro, ora sono nel centro di detenzione. Il giovedì nero degli studenti è quando molti studenti attivisti sono stati perquisiti e portati al centro del KGB per i casi penali. Anche io sono stata interrogata, ma sono riuscita a scappare. Giovedì nero. Potrei fare un esempio della ZBS. Cinque attivisti della nostra organizzazione sono stati arrestati. C'è stata una perquisizione nel nostro ufficio. Gli studenti sono tuttora nel centro di detenzione. Attualmente risiedo a Kiev e cerco di aiutare la protesta dall'estero. Oggi è esattamente un mese da quando sono qui e lavoro da remoto. Cerco l'opportunità di continuare la mia formazione in altri paesi. Faccio domande per gli studi. Molto probabilmente mi trasferirò in un altro paese, forse in Polonia o forse più lontano, in Europa. E se trovo un'opportunità per continuare la mia formazione la userò. Aspetto di ricevere le risposte relative ai programmi studenteschi. Nel caso di una risposta positiva andrò a studiare e continuerò la mia formazione. Ebbene, quando avrò terminato gli studi spero di poter tornare in Bielorussia. In tal caso tornerò. E in caso contrario lavorerò dove avrò ricevuto la mia istruzione. Per lo più mi piacerebbe essere in Europa. Ad essere sincero, mia madre mi ha detto che da quando me ne sono andato è riuscita a dormire meglio per la prima volta, sapendo che ero al sicuro. Certo che si preoccupano, ma l'hanno preso con comprensione. Sono riuscito a malapena dire addio a mia mamma. Sto cercando le opportunità in Europa. Alcuni paesi offrono istruzione gratuita agli studenti come me. Penso che altri paesi potrebbero offrire posti nelle loro università per studenti come me. Alcuni progetti preferenziali. Sarebbe bello se avessimo uno status legale in modo da poter rimanere in un paese per più di 90 giorni. Altrimenti è un po' difficile. Non appena risolvi alcuni problemi quotidiani devi partire e ricominciare tutto da capo. Voglio tornare a casa. Grazie. 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 Grazie.